benvenuti o bentornati sul canale del sottoscritto ovvero federico frusciante questo è un canale dove solitamente si tratta di cinema di musica di letteratura quasi tutto comunque collegato alla settima arte quello che state per vedere è un frusciante al cinema ovvero un'opinione che do di un film appena visto al cinema questo decreto in realtà l'ho visto due volte prima di dare l'opinione perché la prima ero confuso nella seconda invece mi sono deciso a capire secondo me quello che c'era da capire e giudicare per quanto possa perché poi insomma magari col tempo un film può diventare peggiore o migliore vedremo insomma il film di cui vi voglio parlare che ho visto al cinema è The Creator di Gareth Edwards con protagonista il figlio di Denzel Washington John Washington appunto Gareth Edwards chiaramente è uno dei registi più importanti secondo me della neo fantascienza aveva esordito con quel piccolo capolavoro che era Monsters fatto con tre lire e una balla che pure riusciva veramente a inquietare e a raccontare il mondo attraverso appunto azione sociale e politica ma anche di intrattenimento e anche di mostruoni e anche in un certo senso l'avventura fantasitiva quindi un film riuscitissimo che poi era stato seguito da quell'altra piccola perla che era il Godzilla americano quello fatto prima di Godzilla contro la prima di qualche anno fa che era veramente incredibile non garbò un cazzo perché Godzilla era quasi sempre fuori campo altezza uomo un film secondo me invece un'altra volta inesorabile è veramente ben fatto così come poi quando si è fatto il film Marchetta nel senso ha preso il film che non voleva fare ma l'ha fatto perché insomma ha tirato fuori il Rogue One di Star Wars che è probabilmente la cosa migliore dei Guerre Stellari è uscita negli ultimi vent'anni nonostante chiaramente le sue limitazioni date da una trama che tutti avremmo conosciuto ma anche lì insomma veniva fuori del grande cinema il nostro poi insomma dopo questo Guerre Stellari è aspettato del tempo ed è uscito appunto con questo The Creator massacrato dal mezzo mondo che lo reputa un film assolutamente inutile io parliamo subito insomma dei film insomma è un film di fantascienza carnicamente un thriller che ci mette l'azione nel mezzo chiaramente ma anche il dramma c'è un po' di tutto perché è una fantascienza politica comunque un certo tipo di cinema che prende le distanze dalla fantascienza stolta appunto che vuole e vuole vivere di franchise che qui invece finalmente con un finale compiuto dove insomma come diceva David Mamet nel momento più alto si deve chiudere perché lì si è raggiunto secondo me il massimo allora prendete la storia è questa in questo mondo futuro dove tutto il mondo ha creato lentamente le AI queste AI sono diventate però intese come robot non come le stiamo intendendo ora che costruiscono fanno proprio come robot che sono danno una mano a fare gli operai danno una mano a fare i dottori li inserite proprio a livello asimoviano insomma queste AI sono accettate da tutto il mondo finché un giorno praticamente una di queste sembrerebbe fare un errore fa scoppiare praticamente in mezzo a Los Angeles una bomba e che deflagra un milione di persone a quel punto in America vengono di considerate vengono messe illegali e invece nella Neo-Asia sovvivono normalmente con gli umani vengono costruite e hanno insomma anche loro una parte nella società quindi il film narra della storia appunto di questi americani che stanno facendo di tutto per distruggere appunto le AI avendo creato poi questo terrificante armone il Nomad che è questa specie di gigantesca astronave che praticamente mappa il terreno come se fosse praticamente uno scanner e deflagra tutto quello che cammina un'arma terrificante appunto contro la Neo-Asia che si difende da parte sua e deve tenere nascosto appunto il creatore di queste AI, di questi robot e che ha creato insomma l'arma definitiva per distruggere in realtà il Nomad stesso e quindi la storia è questa in pratica la situazione mondiale è questa e la Neo-Asia si fa guerra con gli Stati Uniti d'America perché gli Stati Uniti d'America hanno messo illegale qualcosa che invece il resto del mondo in realtà più o meno vuole di lì poi troviamo la storia appunto di Joshua Taylor questo militare che è infiltrato ma si è innamorato della figlia appunto di questo Neantra di questo grandissimo costruttore appunto venerato da tutti i dissimulacri si chiamano di così questi corpi umani ormai perfetti che hanno questo buco indietro interno una meravigliosa che però si comportano come umani hanno un carattere umano hanno la possibilità visto che gliel'abbiamo data di potersi comunque scegliere le proprie cose avere un'identità ecco e quindi il film parla di questo che a un certo punto però insomma scopriamo essere un infiltrato ripeto e sta con questa donna che è incinta però nel momento in cui sembrerebbe andare per il meglio insomma il nostro viene sgamato dalla stessa mentre i cattivoni stanno bombardando tutto stanno ammazzando tutto compresa appunto la moglie del nostro quindi passa il tempo il nostro che era già senza una gamba senza un braccio che usa appunto arti artificiali sta facendo i cazzi sua è distrutto non ha alcuna intenzione di parlare più con la vita perché gli è morta la moglie la figlia si è incinta tutto il resto viene contattato dai dei militari che gli dicono se te ci riporti nel luogo dove eri stato dove si trova sta niantra e ci dai la possibilità di trovare insomma il capo e la nuova arma che hanno creato noi come puoi vedere dal filmato si vede di nuovo che sua moglie è vita facciamo praticamente tornare viva qui tua moglie senza toccarla quindi lui prima non voleva fare un cazzo si lega a questi nuovi militari e va a fare questo attacco praticamente finché non trova questa nuova arma che è però questa bambina che sembrerebbe tutt'altro che pericolosa e di lì appunto tutto quello che succederà al nostro perché inizierà a fuggire con la stessa per cercare di trovare sua moglie perché la bambina a quanto pare la bambina cyborg sembrerebbe saperlo solo che la bambina ha anche un potere eccezionale quasi fantastico unendo le mani riesce a controllare tutto ciò che è meccanico o non nel mondo e di lì tutto quello che succederà in un film che sicuramente ha delle parti di derivative quando si parla di robot in questo caso non si parla di AI come le stiamo intendendo noi ma proprio di robot schiavi che piano piano però incominciano ad avere una propria identità e pur non potendo avere figli e tutto il resto però riescono ad avere la voglia di volere la pace di volere essere trattati in maniera umana anche loro anche se non sono umani e in tutto questo si affaccia appunto un'altra volta un'umanità che non vuole accettare il diverso e il robot in questo caso l'androide e il ciò che viene combattuto in realtà è l'ennesima paura appunto che è dover si mette addosso appunto a una società americana e soprattutto occidentale ma soprattutto americana che insomma combatte tutto quello che reputa diverso reputa assolutamente da cancellare anche perché poi verranno fuori cose insomma su quella bomba che è stata sparata all'inizio che non sono poi così esaltanti in tutto questo Garrett Edwards in realtà regala una storia di amore di amicizia fra questo Joshua e questa ragazzina che lui chiamerà Alfie perché c'è scritto Alfa e Omega qui la chiamerà Alfie e insomma nascerà questa specie di amicizia col tempo questa specie di unione ecco fra i nostri due e quindi un film che senza voler spolarizzare troppo però ha dalle sue delle musiche di Hans Zimmer clamorose veramente delle musiche che sono bellissime straordinarie senza considerare l'utilizzo dei radio e di Purple e di altri gruppi messi molto bene proprio nella scena e poi un'altra volta un film sì da 70 milioni ma non da 200 come quelli appunto della Warner e della Marvel eppure cazzo un livello visico fantastico ripeto certo non si può non partire dai robot non si può non partire da un certo tipo di classicismo del robot che qui viene riportato insomma di fronte ai nostri il post modernismo sull'idea della I viene cancellato torniamo a un livello diciamo così più vicino a Blade Runner e meno male una logica appunto di pensiero sì di un cinema d'azione thriller noir quello che volete guerra ma che però affonda appunto la forza nella critica nella critica e nel trasformare appunto ciò che noi troviamo sempre pericoloso e diverso in qualcosa in realtà che ci comprende meglio a volte di quelli che noi pensiamo essere i nostri vicini più solidi più forti in un certo senso quindi è un film assurdo su questo punto di vista perché è un film che in realtà certo ricorda molte cose di Oshie come non ricordarle è meraviglioso ci sono dentro 7-8 anime buttati lì Evangelion anche addirittura per me è proprio un film fantastico per questo il grande Gareth Edwards è uno della mia generazione prende tutto quello che lo ha cresciuto frulla tutto però riesce a tirare fuori qualcosa sia esteticamente che anche in un minimo di racconto che è personalissimo perché l'estetica del film è clamorosa tutte le astronavi, tutti i robot tutto quello che noi vediamo è veramente enorme c'è certo una voglia finalmente di un grande tipo di cinema alla Elysium se vogliamo alla District 9 neanche nel modo in cui sono costruiti questi androidi ma c'è anche ripeto una voglia un'altra volta di attaccare direttamente c'è poco da fare la politica americana e la sua voglia di mettere la forza ad ogni costo questo loro attacco viene girato in pratica al di là delle armi nuove dal nostro Edwards come se fosse un documentario sul Vietnam sembra veramente di essere lì e questa cosa è molto inquietante e credo che non piaccia molto al mondo e al pubblico perché in realtà ci mette di fronte al fatto che noi occidentiali siamo veramente delle bestie che puntiamo solo ai soldi, al guadagno e esclusivamente al potere un potere tra l'altro che viene costruito dall'altra parte come la bellissima nostra Alfie, la nostra bellissima bambina esclusivamente non per distruggere ma per far finire di distruggere quindi è un film dove la guerra però viene vista da tutte le parti come una cosa distruttiva la cosa interessantissima è che tra l'altro la nostra ragazzina pur essendo un'eletta diciamo una cosa del genere però non ha una vera forza di poter fermare i grandi scontri o le grandissime cose ma in realtà anche lei è incredibilmente debole è umana, è piena di dubbi, impara lentamente l'opposto appunto di quello che è in realtà e che dovrebbe essere il cuore occidentale che in realtà è trasformato in questa specie di astronave completamente asettica completamente glaciale che distrugge tutto quello che trova amici o nemici sotto quello che deve scansionare ed è veramente terrificante per come è messa in scena un sistema appunto che sembra così fantascientifico ma che in realtà si avvicina tantissimo dalle nostre parti poi c'è tutta la logica appunto dell'anime, tutta la logica del cinema orientale come ho detto c'è poco da dire non è un caso che il film insomma abbia le scritte in orientale e abbia un certo tipo di filosofia in un certo senso orientale non per forza religiosa, questo è un film molto laico in quel senso è un film che fa credere alla passione delle persone fa credere all'amore delle persone per potersi ritrovare, per poter essere qualcos'altro proprio perché tutti i personaggi quando incontrano poi questo Alfie in un certo senso si rendono conto dell'umanità che ha questa ragazzina che è 5.000 volte migliore di qualsiasi essere umano che ha intorno in realtà quindi una crescita, un'evoluzione che però non vuole cancellare le altre come invece fanno credere i fascistoni come quella bionda che gli dice eh, l'uomo di The Undertale abbiamo ammazzato noi uomini sapiens e loro faranno lo stesso con noi no, la differenza è che loro non sono umani non hanno la voglia del potere, non hanno la voglia della forza non vogliono comandare vogliono sicuramente vivere in pace e questa cosa qui secondo me è fantastica la sceneggiatura del grandissimo Eudars insieme all'ottimo Chris Waits che era il regista da Bussola Doria che ha scritto dei grandissimi film è veramente di quelle potentissime e certo, non è un film esente da difetti forse dura un pochino troppo ci sono alcune cose che sono un po' messe lì e un po' confuse ci sono dei momenti in cui probabilmente si dovrà cercare di creare una situazione un po' diversa per smuovere dal déjà vu di alcune situazioni ma porca miseria se fossero così tutti i déjà vu farei veramente le capriole perché questo è un film che è stato massacrato e io non riesco a capirne proprio il perché ripeto, gli effetti speciali sono bellissimi una volta tanto l'analogico è usato al digitale in maniera che non rompe i coglioni mai mai come ho detto tutto ciò che è design è splendido il moccaggio di Corbyn e Walker è perfetto riesce a donare ritmo alle scene d'azione quando non ha il ritmo senza però scavalcare, rompre i coglioni o fare abbeiate del cazzo e riesce invece a trasformarsi a rendere tensione e thriller nel momento in cui tutto deve essere tutto nascosto è ripeto anche il viaggio in macchina e quelle cose deve essere tenuto nascosto e quindi deve essere raccontato con uno stile molto più cupo in un certo senso ma non solo a livello proprio di descrittivo esterno ma proprio a livello di mantenimento ecco di un certo tipo di tensione che non cade mai nel film secondo me è questa la bellezza del film il film parte con quella scena fantastica appunto con tutta la costruzione utilizzando veri pezzetti della nostra storia in cui si costruivano i robot in Giappone e tutto il resto per poi arrivare appunto a questi simulacri questi uomini che in realtà vivono grazie a questi cervelli diciamo così meccanici ma che in realtà ripeto cominciano a avere ormai da anni ormai qualsiasi pulsione che ha dell'essere umano l'amore, l'amicizia, il dolore sentono qualunque cosa ed è bellissima per esempio la trasformazione di uno dei suoi amici che era uno dei suoi colleghi che voleva ammazzare i simulacri che poi in realtà si innamora di quest'altro simulacro meraviglioso e che quindi è un film sull'accettazione è un film sul disarmo è un film contro la guerra ad ogni costo il nostro chiede scusa mille volte per quello che ha fatto per la guerra che ha dovuto fare ed è uno di quei film che funzionano perché c'è una fotografia di Craig Feser e Soffer che è mostruosamente bella ma stiamo scherzando non è per nulla plastificata il film non è mai barocco in tutte queste città in tutta questa costruzione c'è sempre un gusto nella costruzione estetica mostruosa si nota che il regista proprio lo ha pensato e voluto mescolando ripeto tutto quello che voleva mescolare ormai siamo in un mondo che se si parla di politica se si parla di società se si distrugge qualcosa dentro un film non va più bene bisogna divertirci come dei cazzoni e basta allora prima di tutto il film intrattiene perché ripeto ci sono scene di tensione molto ampie ci sono scene che fanno anche paura e ci sono momenti drammatici anche di amicizie ed amore che sono altissimi c'è poco da dire e in più la regia del nostro non se ne parla mai ma questo ragazzi parte con una panoramica che leva di ulo poi inizia con questo bombardamento che è sensazionale ci presenta subito questa nomad questa astronave terrificante e poi ci racconta appunto di un mondo che è completamente controllato da chi ha armi sempre più forti e la cosa bellissima del film è che in realtà queste AI non sono abbastanza così avanzate per creare armi più forti quelle lo fanno gli umani un'altra volta perché queste AI non sono create per fare la guerra non sono create per adiare l'essere umano è veramente un film stratificato un film che va visto con tante chiavi di lettura la chiave appunto dell'amore l'amore inteso per l'anima per la persona per l'essere interiore e tutta la parte finale infatti su questo è fantastica delle piccole invenzioni geniali come quello che è morto e invece riescono a tirargli fuori la memoria degli ultimi 30 secondi che guarda se stesso parlate con mia moglie quella scena è tremenda in più i due cattivoni sono veramente due merde incontrollabili e in tutto questo ripeto il nostro però non lascia da parte l'intrattenimento ci si diverte proprio perché si riesce a entrare in una storia che ci confina in un mondo nel quale nessuno vorrebbe mai vivere in una guerra fatta in maniera asettica totalmente lontana quindi dallo sguardo delle persone che non vivono nella guerra stessa con semplici scanner e bombe che arrivano precise sul punto deflagrando tutto ed è un film quindi pacifista è un film che lavora su dei momenti in cui i personaggi riescono ad entrare direttamente nello sguardo dello spettatore un copione come ho detto non perfetto ma cazzo originale una volta tanto nel senso che nonostante possa esserci all'interno 20 film quello che viene fuori è qualcosa di notevole di innovativo per questo periodo storico qui dove i film di fantascienza sono tutte cazzate che derivano da fumetti o qualcosa che è già precostruito e che precostruiscono Edward si vede che costruisce il suo mondo che lo vuol portare avanti che lo porta avanti con un discorso politico che non deve essere mai lasciato indietro perché sennò il film non ha alcun senso ma quindi è difficile fare un film del genere perché a me si parla di robot di android di alla Blade Runner e è diventato quasi un tema antico in un certo senso non ne vuole più parlare nessuno invece il nostro lo li tira fuori amando i classici tirandoci fuori tutto nei classici c'è di tutto però senza mai diciamo dimenticarsi di dover lavorare anche su qualcosa di diverso come aveva fatto appunto Blomkamp sui suoi grandissimi film tranne Gran Turismo e Merda Via e invece qui il nostro fa un certo tipo di lavoro uguale non dimenticandosi appunto il postmodernismo e un certo tipo di war movie sociale e politico di Blomkamp anzi utilizzandolo non si dimentica però dei classici c'è visioni che sembrano una metropolis ci sono momenti in cui sembra di stare in un film appunto degli anni 70 tipo 2022 proprio il livello ecco di idea del nostro Edwards si trasforma in qualcosa di visivo e a volte le parole del film è vero sono a volte forse meno essenziali di quanto non siano alcune inquadrature che ti spiegano perfettamente tutto certo ci sono alcune svolte un po' improbabili qualcosa di sceneggiatura non torna perfettamente ma non me ne frega un cazzo cioè sono piccolezze di fronte a un film pieno di idee in realtà pieno di voglia di raccontare il nostro mondo attraverso un film che vola via che è una bellezza perché io ho detto poteva essere sforbiciato ma per me le due ore e un quarto non l'ho nemmeno sentite e che finalmente racconta una storia diritta quadrata pulita che non cerca 658 sequel e che va diretta al punto i personaggi sono ben scritti tutto quello che accade comunque riesce a essere credibile anche quando è poco credibile poi veramente interessante l'idea appunto di questo narrare un mondo fanta thriller molto nel futuro inserendoci però qualcosa quasi di fantasy quasi di un'altra volta spirituale nel senso che la nostra non ha ganci non si attacca come nel qualsiasi film cyberpunk o oscio via dicendo attraverso appunto qualcosa la sua forza unisce le mani e riesce a controllare ugualmente però ripeto non è immortale non è potentissima è potentissima sì ma è una bambina è più umana degli umani stessi e quindi è piena di paure è piena di incertezze sta crescendo è rimasta chiusa dentro una stanza per anni da solo a guardare la televisione un grande carattere poi la bambina è veramente bravissima Madeline Yuna di Olves così come è comunque brava anche la moglie Gemma Shan che appunto fa Maya e così come sono bravi tutti gli altri gli attori veramente volano altissima ripeto e secondo me non c'è possibilità di sbagliarsi quando si guarda un film del genere assolutamente troppo interessante per essere abbandonato con un film del cazzo buttato a casa ma stiamo scherzando e poi mi dite che si è salvato un po' di velo esorcista del cazzo e mi trattate male questo e poi magari mi salvate in sedio sull'ultimo ma ragazzi questo film lì è uno di quei film di cui il cinema ha davvero bisogno è uno di quei film che dovrebbe incassare miliardi e mezzo vesto per far capire che le idee originali funzionano per far capire che non ci vuole l'effetto fond nostalgia per far capire che ci hanno rotto i coglioni lo star system perché anche il nostro Washington si è il figlio di lui ma non ci sono star così famose non è un film che punta su questo e direi che se ci avevano stioccato Brad Pitt e altri due stronzoli appunto della cultura della fantascienza alta e che crea della fantascienza alta un'altra volta che però non può essere limitata dal pubblico perché riesce ad avere ritmo riesce ad avere grandi effetti riesce ad avere dei momenti di spettacolarità enormi che però vengono chiaramente messi nel momento in cui devono essere messi e poi il film in realtà cerca di dare un'idea del mondo attraverso allegorie attraverso situazioni attraverso sequenze che sono magistrali è un'atmosfera sempre di distruzione sempre così cupa sempre che ti affligge però nello sguardo della bambina e nel momento in cui c'è lei riesce comunque a creare un momento sempre di voglia di avere possibilità di credere nel futuro ecco ed è fantastico che questa possibilità la crei soltanto lo sguardo di un essere che non dovrebbe essere umano e che invece è più umano di tutti quindi insomma per me un filmone c'è poco da dire con i suoi difetti ma io non è detto che è una cosa che non sia difettosa non sia grandiosa secondo me a volte ci sono film come questi di due ore e un quarto dove magari c'è una mezz'oretta dove la sceneggiatura ribalza un po' di qua di là diventa improbabile ma io riesco a crederci riesco a entrarci dentro non mi interessa assolutamente perché poi il resto è talmente alto ci sono quattro punti di cinema meraviglioso ma proprio a livelli da capolavoro per me questo è un film che verrà rivalutato di mortone col tempo uno dei classici film massacrati adesso e che invece la gente si mangerà le mani fra dieci anni perché massacrava questo e parlava bene di Maverick avete voglia di dire film di un autore che deve continuare a lavorare e fare il cazzo che vuole che per quanto possa essere falloso questo film in alcuni punti è sempre un film super interessante poi per i miei gusti personali è un film che adoro è un film assolutamente da vedere andate al cinema se lo trovate correte c'è gli ultimi giorni mi dispiace l'ho fatta adesso la frusciante al cinema ma lo volevo davvero vedere due volte perché la prima volta mi aveva convinto meno in alcuni passaggi questa volta invece sono stato talmente trasportato che per me il film rimane ed è una delle migliori cose di fantascienza negli ultimi vent'anni non vedo l'ora che esca al blu-ray per vedermelo altre 600 volte perché questo è il classico tipo di cinema che io adoro fantascienza thriller noir azione grande idea sociopolitica che però non si mangia il resto ma che anzi fa andare avanti la narrazione e quindi per me qui siamo di fronte veramente a un regista a Edwards che ripeto è veramente anche sottostimato a livello tecnico fa delle cose veramente notevoli senza che nessuno se ne accorga perché non è un tipo di regia che mangia appunto la narrazione qui dire veramente che il film non dice un cazzo che il film è scritto a culo veramente vuol dire non voler leggere i sottotesti vuol dire non capire che cos'è il cinema non voler dire non farsi raccontare non voler dire non farsi cullare assolutamente da ciò che è la sala e da ciò che è un racconto ripeto ormai sociopolitico che a quanto pare non va più di moda anzi bisogna parlare solo di azzate se no magari li parlano male anche del film quindi grandissimo Gadet Edwards un regista che non sbaglia un colpo bellissimo questo di creator ripeto che secondo me racconta il mondo molto meglio di tanti film che dovrebbero raccontare in tre stanze facendo il filmetto d'autore ma che in realtà annoiano tutti questo è un film potente proprio perché se ha successo e tutto può raggiungere un largo pubblico che finalmente può capire che la guerra è una merda e che l'unica arma buona è quella che distrugge tutte le altre armi se no è inutile e nemmeno stare a pensarci grandissimo film veramente poi chiaramente se uno è il guerra fondaio vedo le scoppie tutto sto film li fa K è un film per la pace ma una pace conquistata appunto con la mancanza stessa della guerra che nel film viene deflagrata insomma andatevela a vedere il film perché di più mi posso raccontare volate al cinema qui sotto non c'è il link non lo posso dire tanto lo metterò nel meglio dell'anno andrà lì il link del blu ray ma vi posso dire di qui sotto di donare su Patreon di iscrivervi al mio canale perché è importantissimo mettere mi piace questo non costa niente come iscriversi al canale c'è il punzante del super grazie sulla solita barra per donare direttamente su YouTube seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo succede a Giro per l'Italia e questo The Creator vi ripeto per l'ennesima volta dimostra l'ennesimo talento di Gareth Edwards come uno dei migliori registi di fantascienza degli ultimi 30 anni e dimostra un'altra volta come il pubblico o molta critica che lo sta massacrando continui a guardare i film praticamente prosciutti davanti all'occhio sperando di vedere solo quello che vuole e mai quello che vuole l'artista per me questo è il grandissimo The Creator un film da non perdere